Vi siete mai chiesti qual è l'ingrediente che distingue la vostra personale ricetta di vita? Se dovessi paragonare il mio percorso a quello per la preparazione di un buon piatto, direi che è la curiosità l'ingrediente segreto. Quello che mi ha sempre spinta a ricercare sapori diversi per migliorare di volta in volta la ricetta attraverso nuovi accostamenti. La curiosità mi ha portata a laurearmi in storia dell'arte, guidandomi nella ricerca degli intrecci che si celano dietro la bellezza di un dipinto o l'armonia di un edificio. Indagare connessioni, fondere esperienze diverse, mettere in relazione è sempre stato quello che mi piace fare. Per questo da dieci anni mi occupo con passione di relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa, prima come dice e poi direttore della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e oggi come consulente parte della squadra di professionisti che compongono la GNG, un'agenzia milanese dove ho imparato a lavorare con il gusto della qualità. Etica e fiducia, responsabilità e metodo, estro e ricerca sono le materie prime che ogni giorno mi impegno a miscelare per governare i flussi della comprensione reciproca mettendo in relazione le persone e i loro obiettivi. In una ricetta mai uguale all'altra, frutto di un costante aggiornamento e di una stimolante ricerca di equilibrio tra misure sempre diverse, che quando si rivela efficace mi restituisce lo stesso appagamento che dà portare in tavola un souffle ben riuscito.